Numeri importanti, quelli totalizzati dal piano socialità che si è concluso ieri a Milano, sono stati oltre 31.000 gli interventi messi in campo dal Comune di Milano per aiutare le persone più fragili che hanno bisogno di assistenza nei mesi estivi per le alte temperature o perché sono sole. Dal 3 giugno al 2 settembre sono state 31.449 le prestazioni erogate, tra cui quasi 14.000 i pasti a domicilio consegnati, il servizio più richiesto e oltre 4.000 gli interventi per la pulizia della persona e della casa. Il piano socialità dell'amministrazione, coordinato dall'assessorato alle politiche sociali abitative, prevedeva anche la partecipazione ad attività ludico-ricreative. Sono stati ad esempio oltre 2.000 gli ingressi gratuiti in piscina distribuiti e quasi 700 i biglietti per cinema e concerto, opportunità a cui si aggiungono la consegna dei quotidiani, oltre 3.000, le visite guidate e legite 414 e oltre 500 tra pranzi e pizzate collettivi. Ancora una volta, ha commentato l'assessore alle politiche sociali abitative Gabriele Rabaiotti, gli operatori del sociale del Comune di Milano hanno dimostrato grande attenzione e impegno in un periodo spesso non semplice dell'anno. Il numero verde 800-777-888, utilizzato durante l'estate per le segnalazioni e le richieste dei cittadini in difficoltà, rimarrà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30 per rafforzare i servizi che si occupano della lotta alla solitudine e rappresenterà un primo punto di contatto per l'orientamento ai servizi di welfare del Comune.